Una serata di cultura fra teatro e premiazioni all'Auditorium Gaudium et Spes di Ravis Canina, organizzata dalla Proloco Rupe Canina in occasione dell'ottava edizione del premio Celestino Quinto, il Papa del Gran Rifiuto, come lo indica lo stesso Dante nella Divina Commedia, e che ha radici da queste parti. Ottima performance teatrale della compagnia Il Sipario di Montergone, con Affari di Famiglia, un lavoro scritto da Marco Lanzuise, che porta in scena una frenetica corsa all'eredità familiare, con una straordinaria irina nella parte della badante ucraina, che accusisce il cavaliere prossimo alla morte. Prima dell'esibizione e quindi della premiazione, il presidente della Proloco, Costantino De Cristofaro, ci parla dell'evento e come nasce. Sì, questa sera premeremo due concittadini, uno alla memoria, l'amico compianto Raffaele Cunga e un altro il dottor Antonio Masillo, che è stato per lungo tempo presidente della locale squadra di calcio, nonché sindaco e amministratore di questo paese. E quindi la commedia è una grossa commedia, grossi affari di famiglia, scritta, diretta e interpretata da Marco Lanzuise, che è un attore cinematografico, nonché un conduttore televisivo dell'emittente Canale 21. Quando nasce questa idea? L'idea è nata via facendo, perché noi facciamo già il palio di Celestino Quinto da 11 anni. Nel 2011 sono venute le spoglie mortali di Celestino Quinto qua dall'Aquila in una peregrinazio. E quindi quest'anno poi, il 2019, che è stato un anno formidabile, perché oltre a essere, diciamo, ammessi al fuoco del Morrone, un fuoco che viene acceso il 16 di agosto sul Monte Morrone, dove viveva praticamente l'eremita Celestino Quinto, è portato nella Valle Peligna fino all'Aquila. E noi siamo stati ammessi ad accendere il fuoco e l'abbiamo portato qua nelle nostre parrocchie. Per poi ci siamo ricongiunti a fuoco della Valle Peligna per giungere all'Aquila in pellegrinazio il 28 di agosto, dove abbiamo partecipato per la prima volta nella storia al corteo della perdonanza nella parte riguardante i comuni celestiniani. Cioè a significare che tutti i comuni che stavano in quel tratto di corteo erano tutti i comuni dove Celestino Quinto certamente è stato in vita. Nell'intervallo poi l'attesa premiazione che ha visto salire sul palco per ritirare il premio l'ex sindaco di la Viscanina, Antonio Masiello, il dottor Aldo Conca, che ha ritirato il premio alla memoria, assegnato al padre Raffaele, che molto emozionato ci ha detto. Il fatto di ricordare attraverso una manifestazione quindi genuina, spontanea, l'operato di mio padre durante la sua vita riempie di noi figli orgogliosi, orgogliosi di sapere che quello che ha seminato mio padre in primis a noi e nella società è qualcosa di importante. Perché fin quando tutti noi rimaniamo e incentiviamo le virtù che ci hanno trasmesso, possiamo sempre dire che noi la società che andiamo a costruire verrà proprio perché i cardini, i principi ci sono stati infondati da questi signori, tra cui anche mio padre. Per voi è stata una sorpresa oppure sapevate già qualcosa? Per me è stata una sorpresa però conoscendo le qualità del presidente De Cristoforo con tutto il suo entourage, tutte le sue persone che collaborano con noi perché poi non è semplice fare queste manifestazioni, ci ha colpito di sorpresa però nello stesso tempo se non era oggi era domani eravamo sicuri che mio padre come altre persone che sono natie di Raviscanina hanno seminato bontà, hanno seminato serenità per sempre per noi e per gli altri. Grazie a tutti.